A un volto e un nome l'accoltellatore di Tania Fatima Tamai Gonzalez, la escort 35enne trovata in un lago di sangue sul ballatoio del suo appartamento nel centro di Caserta. Si tratta di Domenico Flinio, 28 anni, che dopo aver accoltellato la donna che è ancora ricoverata in ospedale in prognosi riservata, l'ha anche rapinata. Il giovane è stato rintracciato nella tarda serata di ieri nella sua abitazione di Portico di Caserta e arrestato dai carabinieri con l'accusa di tentato omicidio e rapina aggravata. Flinio, lo scorso 21 novembre, secondo la ricostruzione degli inquirenti, si sarebbe recato nella casa dove la donna si prostituiva e dopo un rapporto sessuale ha preteso che gli fossero consegnati tutti i soldi che aveva in casa sotto la minaccia di un coltello. La donna si è opposta e ne è nata una colluttazione terminata con l'accoltellamento. I carabinieri di Caserta hanno raccolto una serie di gravi indizi e prove a suo carico e il giovane, dopo un lungo interrogatorio, ha confessato ammettendo le sue responsabilità. Trovati sia il coltello usato per colpire la vittima che la somma rapinata.